Musica Amiche e amici ben trovati a Happy Food, tra cibo e cielo. La nostra rubrica è dedicata al cibo sano, al cibo genuino, facile, in compagnia di Cristina Capelli e della sua arte culinaria. Benvenuti nella mia cucina. Grazie Cristina per averci nuovamente accolto qui. Le nostre puntate sono dedicate al cibo sano perché oggi la salute passa, oggi non solo oggi, da sempre la salute passa attraverso il buon cibo. Noi occidentali siamo sempre più abituati a mordi e fuggi, quindi a masticare velocemente, a cibarci di magari pasti precotti oppure in velocità e in piedi. Mi ha insegnato che in piedi non si mangia. Però con questa velocità se ne va anche la salute. Esatto. Queste ricette sono ricette che vogliono ispirare anche tutti voi a casa e tutti noi a cucinare, a riprenderci un po' quel sano tempo da dedicare anche al cibo. Perché il cibo è non solo cibo da degustare ma è anche un atto d'amore e il cibo per l'anima, per la mente e soprattutto per la salute. La tua esperienza lunghissima insieme a Rudi Gerdalke che è un medico e uno psicoterapeuta ti ha permesso di esplorare un mondo davvero fantastico. Che è quello che oggi noi vogliamo raccontare, cioè il collegamento che esiste tra ogni cibo e il pianeta. Ormai lo sapete, ogni verdura, ogni ortaggio, frutta o semplicemente ogni cereale e legume è segnato da un pianeta. Oggi parliamo di Saturno. Parliamo di Saturno e il cereale è il grano saraceno. Questo pianeta, Saturno, che richiede da noi sobrietà, coerenza, precisione, porta una segnatura perché è scuro, è buio, come la farina del grano saraceno. Ha anche un aspetto di luce però Saturno che incontreremo con il mais. Invece in questa puntata ci dedicheremo alla parte più profonda, più nascosta che sta tra le radici, in profondità proprio. E infatti è dedicata a Saturno come il dio del tempo che divora i suoi figli come crono greco e come la sabbia che scorre all'interno di una clessidra accorcia la nostra vita. Però a Saturno anche questo aspetto, dicevi, magico, un po' spirituale, che ci riconnette con una parte più alta. Prendendo nutrimento dalle esperienze, anche dure, che facciamo nella nostra vita, dalle sofferenze e dagli attriti, possiamo farne un tesoro luminoso e di esperienza profonda. Quindi oggi parliamo del grano saraceno. Che caratteristiche ha il grano saraceno e quanto può essere utile per la nostra salute? Il grano saraceno nella sua versione integrale è un alimento scuro perché è molto ricco di sali minerali, quindi prezioso per la nostra struttura, di cui Saturno definisce bene i confini, per le nostre ossa e quindi è remineralizzante. Quindi cos'è utile per le nostre ossa, visto che Saturno è l'archetipo di cui parliamo oggi e peraltro è un archetipo che trovate anche sulle nostre immagini, sull'immagine della nostra maglietta? Certo. Attraverso questa linea centrale nella pigna ricorda la colonna, è l'asse del mondo, ma il nostro stesso asse, cioè la nostra colonna vertebrale. E perché la pigna? La pigna per un collegamento con la ghiandola pineale, che è l'apertura alla spiritualità e anche determina i ritmi del nostro corpo. Come Saturno determina i ritmi della nostra vita, la pineale sicerne la melatonina e quindi il ritmo di alternanza del riposo e della veglia, della luce e del buio. Del sonno e della veglia e della luce e del buio. Cristina, queste magliette portano il nome della nostra trasmissione Happy Food, lo vediamo qui. Sì, sono creazioni originali di anima trama per il nostro evento. Cristina, allora cominciamo a scaldare i fuochi. Benissimo, accendiamoli. Cosa dobbiamo fare? Accendiamoli. Cosa facciamo oggi? La torta alle pere mandorle con gelatina di mela grana. Sì, tutto volto proprio alla nostra struttura e a depurare il nostro sangue come realizzeremo poi con questa gelatina color rosso rubino. Non vedo l'ora. Le prime cose da fare, quali sono? Io direi di andare a oliare la teglia, che in questo caso è una teglia da 28 con il fondo rialzato per poterla capovolgere poi. Per cui la oliamo. Con dell'olio evo semplicissimo, giusto? Sì, sì. Perché nella nostra cucina a salutare il burro è bandito. Non conosco. Quindi oliamo. Ogliamo e poi spolveriamo con un po' di farina. Un po' di questa farina integrale di grano saraceno. Ma è una farina? Perché qualcuno ha spiegato bene che cos'è il grano saraceno. Il grano saraceno è un falso cereale, ovvero appartiene ad un'altra famiglia, non a quella dei cereali, ma viene comunque classificato come un cereale senza glutine. E lo consigliamo, in quanto è veramente prezioso alternare i cereali con glutine e i cereali senza, per non eccedere nel carico di questa proteina. Quindi, il secondo passaggio qual è? Una volta spolverata la teglia, possiamo iniziare ad impastare tra di loro gli ingredienti secchi. Qui abbiamo preparato 100 grammi di farina di mandorle, poi la farina di grano saraceno, 150 grammi, e poi aggiungiamo della cannella, tutti gli ingredienti secchi. Un cucchiaino? Sì, e un cucchiaino di bicarbonato. Perché il bicarbonato? Perché il bicarbonato è un attivatore di lievitazione se utilizzato insieme all'aceto di mele. Quindi abbiamo anche l'aceto di mele? Abbiamo anche l'aceto di mele che, essendo un liquido, lo metteremo nelle preparazioni liquide insieme. Esatto. A questo aggiungiamo poi, per ultimo, il sale, che va ad esaltare il sapore dolce. E poi, in questo contenitore, uniamo tra di loro i liquidi. Qui abbiamo olio evo. 100 ml. Sì. Il malto di riso. 100 grammi. Che sembra un po' appiccicoso, ma ne va la pena perché è veramente un dolcificante ricco. Il sostituto dello zucchero, del miele. Ricco di principi attivi. Poi abbiamo del latte di avena. Sì. Il famoso aceto. Sì. Lo mettiamo proprio per ultimo. Perché? Perché va utilizzato prima di essere infornato, in modo che reagisca con il bicarbonato e favorisca la lievitazione. E abbiamo anche dell'acqua. Sì. Mescoliamo le parti, diciamo, farinose. Sì, farinose. Poi aggiungiamo, quindi, l'acqua. Nelle parti liquide. Ecco, ora possiamo mescolare. Cristina, ci hai parlato delle proprietà del grano saraceno, ma io sono curiosa. Le ossa. Cosa possiamo fare per aiutarle? Le ossa, la nostra struttura, le possiamo sostenere, senz'altro, con dei cereali integrali. E il grano saraceno è veramente un prezioso alleato. Perché? In quanto è ricchissimo di minerali, di calcio, di magnesio. Inoltre ha anche un'altra proprietà, di sostenere il nostro sistema venoso. Perché ha questo principio attivo che si chiama rutina, che è un protettore del sistema cardiocircolatorio e anche del cuore. E le nostre ossa le possiamo sostenere in vario modo. Per esempio, ci sono dei cibi ricchissimi di calcio, cibi vegetali integrali, come per esempio i semi di sesamo, le mandorle, i broccoli, i cavolfiori, le alghe e i prodotti che derivano dal mare. Senz'altro, i latticini sono ricchi di calcio, ma non c'è nessuno studio che sostenga, come dice Berrino nel suo libro Il cibo e l'uomo, che sono preventivi riguardo alle fratture e all'osteoporosi. Anzi, siccome le proteine animali, le carni e i latticini sono molto acidificanti, l'osso tende a rilasciare del carbonato di calcio per poter tamponare questo eccesso di acidità. E quindi sono sconsigliati. Sono sconsigliati. O perlomeno i latticini non sono l'unica fonte di calcio, andrebbero decisamente moderati. Moderati, soprattutto quando parliamo di donne in menopausa. Certo. Perché lì la fragilità ossea è forse più facile. Ci sono dei luoghi comuni? Sfattiamo questi luoghi comuni. Beh, appunto questo, sull'utilizzo dei latticini e del latte per fortificare le ossa. In realtà vanno a indebolirle. Quindi attenzione, mi raccomando, attenzione. E' molto scura questa preparazione. E' molto scura, come è scuro Saturno, come è ruvido questo passaggio di Saturno. E noi però andiamo a creare una morbidezza. Con cosa? Cortando delle pere. Perché ci vuole un po' di equilibrio, ci vuole un po' di scuro, un po' di chiaro. Abbiamo tagliato insieme le pere a tocchetti, tre pere Kaiser, 350 grammi di pere. Se non ci sono le Kaiser va bene qualsiasi altra varietà. l'ana, le altre pere che ci sono e le aggiungiamo alla nostra preparazione. Si dice che il grano saraceno scaldi, è vero? Sì, infatti inizialmente questo prodotto, questo cereale, era un cereale russo e veniva utilizzato proprio in un posto molto freddo. Infatti è consigliabile utilizzarlo durante l'inverno, perché anche i cereali hanno una loro stagionalità. Certo. Ce ne sono alcuni più riscaldanti e altri rinfrescanti. Ecco, insieme al grano saraceno tu hai inserito la farina di mandorle. Perché? Perché crea dolcezza senza troppi zuccheri. Certo, esattamente. Cristina, abbiamo impastato tutti gli ingredienti, abbiamo reso questa preparazione un po' più morbida e quindi adesso andiamo a metterla nella teglia. Ti aiuto? Grazie. Ok, perché nel frattempo abbiamo acceso il forno a quanti gradi? A 180? A 180, sì. Ok. E è sufficiente mezz'ora di cottura perché la torta sarà sottile. E poi la guarniremo con altri ingredienti che scopriremo insieme. Cristina, però il grano saraceno è, dicevamo, un falso cereale. Ha qualche forma particolare? Sì, ha forma di piramide. Una poligonacea ha un alto valore energizzante e aiuta ulteriormente la nostra struttura in quanto ci fa dimagrire. Uh, questo piacerà tantissimo, soprattutto noi donne. Perché ci aiuta a dimagrire? Perché brucia il grasso addominale, per cui è veramente un prezioso alleato nel ridurre quel grasso addominale che è diverso dall'altro grasso in quanto produce citochine infiammatorie, sostanze, ormoni infiammatori. E' fondamentale diminuire la circonferenza della vita. Certo, cosa tipica soprattutto in età di menopausa tra le donne, poi tra gli uomini. Ma anche tra gli uomini. Anche tra gli uomini. Senti Cristina, possiamo assumere questo cereale, falso cereale, in maniera frequente o è meglio sempre distribuire anche in equilibrio anche questo? E' segnato da Saturno e quindi richiede ritmo. Per cui alternato agli altri cereali, soprattutto abbiamo detto d'inverno, è sicuramente un plus valore per noi. Possiamo assumerne quante volte alla settimana? Io direi una volta a settimana, ma con varie preparazioni. In questo caso abbiamo fatto la torta, ma si può anche assumere come polenta, la polenta taragna, oppure come i pizzoccheri. Quindi ci sono tante preparazioni, tante possibilità. Tante preparazioni, sì. Dobbiamo essere creativi. Creativi e ritmici. Ritmici. Quindi andiamo col ritmo e mettiamolo nel forno. Perfetto. Intanto che la nostra base cuoce, noi ci occupiamo della farcitura, della farcia, come dicono i grandi chef. Abbiamo detto che prepariamo una gelatina di melagrana. Una gelatina di melagrana. Come si fa? E soprattutto, perché hai scelto il melograno? Il melograno perché è un altro potente alleato del nostro corpo. È ricco di acido ellagico, è un antiossidante prezioso, è un depurativo del sangue, è un disintossicante ed è ricchissimo di calcio. E questo permette anche di favorire la struttura ossea. Bellissimo. Oltretutto è frequente da qualche anno vedere questi succhi di melograno. Che sono ricchissimi di proprietà. E di antiossidanti, per cui si spremono e vanno consumati al momento. E questo è l'ideale. Cristina, come facciamo a preparare la nostra gelatina? La gelatina è semplicissima. Si taglia il melograno e si spreme come se fosse un'arancia. Per cui da questo succo color rosso rubino, possiamo poi metterlo in cottura con mezzo cucchiaino di agar agar, che è un'alga rossa che può gelificare e addensare un po' la preparazione. Perché hai scelto proprio l'agar agar? L'agar agar perché mantiene il colore, intanto, meraviglioso del melograno. E poi sempre per le proprietà depurative e drenanti che ha questa alga preziosa della tradizione macrobiotica. Quindi non è facilissimo trovarla, però la si acquista? Si trova ormai sia nei negozi biologici che nei supermercati, si trova facilmente. Attraverso queste puntate di Happy Food, noi insieme a te vogliamo riappropriarci, riconnetterci un po' alla natura e al sapere antico. Quindi anche conoscere questi cereali, ma anche questi frutti che tu utilizzi quotidianamente nella tua tavola, ci permette di conoscere e di capire il senso anche del cibo, che è un cibo per l'anima, è un cibo per la salute, ma è un cibo anche per il pianeta, perché qui è tutto sostenibile. Certamente. E introduciamo anche dei cibi nuovi, come per esempio l'agaragar, che non è così di uso frequente in cucina. E così possiamo uscire un po' dalla zona comfort delle nostre abitudini alimentari ed aprirci alla ampiezza della salute e di altri nutrienti che ormai sono di facile reperibilità. Certo. Andiamo a spremere il nostro melograno in modo tale da realizzare questa gelatina, che si fa con l'agaragar, abbiamo detto, mescolando sul fuoco e poi mettendola a riposare per una decina di minuti. Di minuti, in modo che gelifichi. La potremmo utilizzare non solo per questa torta, ma è molto buona da utilizzare anche come marmellata o per affiancare anche delle altre verdure per il suo sapore asprigno e dolce. Cristina, la caratteristica del melograno, dicevi che è quello di rinforzare anche le ossa. Quindi in questo senso è molto legata a Saturno. Sì, l'ho scelta per questo ed inoltre è molto ricca di vitamina C e di estrogeni, per cui consigliata sempre anche per le donne in menopausa. Insieme al melograno abbiamo anche le mandorle nell'impasto. Non abbiamo detto due cose fondamentali delle mandorle. Ricche di calcio, ricche di magnesio e protettrici per il cuore. Certo, perché poi nella tradizione la mandorla è proprio un viaggio all'interno della spiritualità, perché nella mandorla è conservato il cuore di tutto il sapere. Certo. Le mandorle sono una tradizione. Sì, è vero, questo accendo alla spiritualità e se guardi anche le madonne, per come erano rappresentate, sono sempre racchiuse all'interno di una mandorla di luce, perché è qualcosa di prezioso che richiama il nostro anelito più alto. Quindi quanta meraviglia nella natura e quanta abbondanza anche sulle nostre tavole, senza dover andare ad attingere alle proteine animali. E l'abbondanza è richiamata anche dal melograno, che nelle tradizioni orientali infatti richiama la prosperità, l'abbondanza e veniva donato alle spose per propiziare la fertilità. Quindi un bellissimo simbolo che noi andiamo a utilizzare e realizzare questa gelatina. Grazie a tutti. Cristina, abbiamo sfornato la nostra base e adesso ci prepariamo a stendere la gelatina. A guardirla con la gelatina. Che ha questo bellissimo colore rosso rubino. Noi la spalmiamo sul composto. Sì, e così ci ricordiamo che se anche Saturno è una forza dura, quando passiamo sotto la sua mola è senz'altro complicato nella nostra vita. Però da questo passaggio ne usciamo più arricchiti. E quindi possiamo fare davvero tesoro e portarci, anche attraverso un'immagine di questa torta, l'oscuro del cereale, ma la morbidezza e la ricchezza del melograno. Della gelatina. Della gelatina. Senti, quindi non è proprio sempre così Saturno contro? Quando Saturno è contro, c'è contro e c'è da imparare. C'è da imparare, mettiamola nel positivo. Senti, il pasto è un processo comunitario. Mangiare stabilisce un contatto fisico con il cibo, ma presuppone anche una connessione con noi stessi. È un po' il succo e mi viene da dire anche il sapore delle nostre puntate. Cosa possiamo imparare dall'abbondanza, dalla ricchezza del melograno e dalla ruvidità invece del grano saraceno? Che le cose stanno insieme e che abbiamo unito gli opposti, come spesso può accadere nella vita. Ed essere grati di questa dualità. Quindi un happy food a tutti, un buon cibo tra cibo e cielo, un cibo di salute, di energia e di facilità, sia per noi che per la Terra. Noi vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao! Musica Musica